Mi trovo al quartiere Paolo VI, purtroppo la periferia delle periferie. Stiamo girando per tutta la città perché è giusto che da candidato sindaco possa analizzare, toccare con mano, certe realtà incancrenite. Per me non è una novità, conosco a menaditto il territorio, 21 anni di attività giornalistica e 21 anni di denunce nel centro e nelle periferie vorranno anche dire qualcosa. Ci troviamo al quartiere Paolo VI e vedete quest'area, siamo in pratica alle spalle della caserma dei Carabinieri, nelle adiacenze di Piazza Pertini e vedete è un'area completamente abbandonata. Non sappiamo di chi sia la proprietà ma lo appureremo. In ogni caso vi è una responsabilità dell'amministrazione comunale a, se proprietaria, intervenire direttamente. se non lo è, far sì che chi è il titolare, il proprietario dell'area intervenga. Vi è una responsabilità dell'amministrazione comunale per ciò che attiene al territorio, direttamente o indirettamente. Qui ci sono ragioni valide di igiene, ci sono ragioni soprattutto di sicurezza. è un'area sterminata, una campagna a cielo aperto, sono state rotte, forzate le grate e quindi a questo punto i malfattori possono tranquillamente entrare. Vedete c'è una struttura, possiamo chiamarla una casetta, chiamiamola così, che è stata, i cui infissi le cui finestre sono state divelte, distrutte in buona sostanza e quindi sono diventate meta di malviventi, di persone di dubbia, di indubbia provenienza. Mi riferisco appunto a gente di malaffare. Vedete, non è possibile che un'area del genere giaccia così abbandonata. Occorre innanzitutto metterla in sicurezza, occorre ripulirla, quindi bonificarla e soprattutto decidere cosa fare di essa. Cioè far sì che qui si possa creare qualcosa, si potrebbe creare un parco, si potrebbero creare delle strutture appunto per il quartiere, per poter stare un po' all'aria, in aperta campagna, in un'area a contatto diretto con la natura. Ma è uno sfregio veramente vedere una situazione del genere, un'area, ripeto, completamente abbandonata che diventa poi meta di vandali. Cosa assurda? Il cancello completamente aperto. Guardate, è incredibile una situazione del genere. Va messo assolutamente in sicurezza, oltre alle grate sfondate, addirittura qui completamente aperto. Per cui anche l'appello alle forze dell'ordine ad intervenire rapidamente e chiuderlo. La cosa paradossale è che ha proprio a due passi dalla caserma, dalla postazione dei carabinieri. Che dire, Melucci è stato un sindaco completamente assente. Melucci era rinchiuso a Palazzo di Città, forse non sa neanche dell'esistenza di quest'area. Un sindaco che gira, vede, cammina, rileva le situazioni e poi immediatamente chiama chi di competenza, se, ripeto, la competenza non è dell'amministrazione comunale. Questo significa, come dire, un interscambio di rapporti tra gli enti. Ma cosa volete? Da un ex sindaco chiuso a Palazzo di Città, lo ripeto, è peraltro non tarantino, crispianese. Vedete, io mi sono candidato perché mi sono stancato, perché ho denunciato centinaia e centinaia, migliaia di casi di invivibilità urbana. Sono stanco e ero stanco di ripetere sempre le stesse cose. Ora voglio agire direttamente in prima persona, invertire la rotta. Ci credono tanti tarantini, la nostra flotta diventa sempre più ricca, diventa più articolata di uomini semplici e di alte professionalità. Ecco, con soggetti di alto rilievo professionale, potremmo progettare un futuro diverso anche per quest'area.